Ora all'erboristeria Ophelia di via Petrarca all'angolo con piazza Mazzini si entra bussando e aspettando che la titolare apra la porta dall'interno. Come dal gioielliere, ma dopo due rapine in due mesi commesse sempre dallo stesso uomo la proprietaria non ha scelta. L'ultimo assalto mercoledì pomeriggio. Questo signore è entrato, io ero di là nello studio e mi ha chiamata di qua in erboristeria e mi ha chiesto di dargli i soldi della cassa. All'inizio che devo stare scherzando perché proprio non me l'aspettavo, poi invece ho visto il coltello e ho capito che non stava scherzando. Mi ha invitato ad andare alla cassa, si è preso i soldi della cassa e poi mi ha chiesto di andare nello studio, di chiudere mia chiave, di dargli il cellulare perché voleva spaccarmelo. E' uscito e ho chiamato la polizia, ero un pochino agitata, però agitata, non spaventata perché l'ho visto bene negli occhi e secondo me mi ha dato l'impressione che non volesse farmi del male. Una rapina il 9 dicembre, la seconda il 31 gennaio, bottino totale, poche centinaia di euro. La Torresing ha dovuto mettere una barriera tra sé e i clienti, ma si dice sconcertata da come non si trovi soluzione alla micro criminalità. Siamo impotenti di fronte a delle cose, a dei fatti che di per sé non sono poi così gravi perché il suo signore non è che non mi ha né fatto del male né mi ha portato via cifre esagerate però non riusciamo a risolvere un problema che potrebbe essere, che dovrebbe essere invece risolto. Quest'uomo è un italiano che ha bisogno di pochi euro per vivere e in giro ce ne sono altri, questo mi fa pensare, prosegue l'erborista. Intanto in un piccolo portico del centro storico di fronte a Palazzo Maldura, forse poco o male illuminato, qualcuno se ne approfitta. Credo sarebbe necessario che fuori del mio negozio ci fossero delle telecamere comunali, non so come, e anche una maggiore illuminazione e che ci fosse più passaggio di polizia e carabinieri.